Sorridiente dopo la vittoria per 3-0 della Prosecco Doc a Perugia, 25 agosto 13 marzo, 200 giorni e Sara Farr torna in campo. Sì, 200 giorni sono stati lunghissimi, sono felicissima davvero, è stato un percorso lungo e ho cercato di affrontarlo sempre col sorriso e finalmente posso dire che è finita. E devo ringraziare tutta la società, tutto lo staff, Marco, Harry, Ivan, tutti quanti per essermi stata vicina in questo percorso e niente, basta. Importante è anche riconoscere il lavoro della federazione, di tutti quelli che ti hanno dato una mano, ci hanno dato una mano anche noi come società. Adesso testa di nuovo alla Champions giovedì, partita importantissima con Monza. Sì, esatto, sono felicissima di essere rientrata in questo periodo qua, dove ci sono le partite che contano, spero di poter dare una mano ai miei compagni di squadra e niente, sono felicissima. Ecco Volos che passa a salutarla, un abbraccio a tutte. Ciao. Ciao.